Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine vi protegge amici carissimi siamo giunti alla terza puntata del ciclo di catechesi meditazione forse è meglio chiamarlo così dedicati a santa alfonso media di riguori in particolare alla sua opera molto importante che è l'apparecchio alla morte un'opera certamente come abbiamo già avuto modo di evidenziare non molto alla moda non molto al passo con il clima e con l'andazzo dei tempi che stiamo vivendo ma che conserva la sua assoluta e straordinaria apparenza formativa soprattutto per ricordarci che la vita è una cosa molto seria e ancora più serio è quello che ci aspetta dopo questa vita terrena che non è eterna, che è limitata e con la quale però si giochiamo la sorte dell'eternità ricordiamo sempre che la nostra santa fede cattolica esiste per un solo motivo lo dice san pietro la salvezza dell'anima che non è un dato ovvio e scontato ma è una meta, è una conquista, non è scontato tutte quante queste esortazioni che ci rivolgerà il grande dottore e santo sono appunto finalizzate a prendere coscienza di questa grande verità andiamo con la considerazione seconda che si intitola con la morte finisce tutto sottotitolo Finis Venit Venit Finis Ezechiele 2.7 Fine, è giunta la fine Punto primo Dai mondani sono stimati i fortunati solamente quelli che godono dei beni di questo mondo dei piaceri, delle ricchezze e delle pompe Ma la morte metterà fine a tutte queste fortune di terra Que est vita vestra Vapor est ad modicum parents Cos'è la vostra vita? Siete come un vapore che appare per un istante e poi scompare I vapori che esalano dalla terra talvolta alzati in aria e investiti dalla luce del sole fanno una bella comparsa Ma questa comparsa quanto dura? Ad un poco di vento sparisce tutto Ecco quel grande oggi corteggiato temuto e quasi adorato Domani che sarà morto Sarà disprezzato Maledetto E calpestato Con la morte Tutto sia da lasciare Il fratello di quel gran servo di Dio Tommaso da Campis Parentesi Per chi non lo sapesse Ritenuto l'autore del Aureo e splendido libro L'Imitazione di Cristo Cosa parentesi Si pregiava Ad aversi fatto una bella casa Ma gli disse a un amico Che vi era un gran difetto Quale? E gli domandò Il difetto Quegli rispose Che vi avete fatto la porta Come? Ripigliò E difetto la porta Si Rispose l'amico Perché un giorno Per questa porta Dovrete uscirne morto E così lasciare la cassa È tutto Io vado proprio in In visibilio Quando vedo queste cose Quando sento queste cose La morte insomma Spoglia l'uomo Di tutti i beni Di questo mondo Che spettacolo A vedere cacciare fuori Quel principe Dal suo palazzo Per non rientrarvi più E prendere altri In possesso Dei suoi mobili I suoi denari E di tutti gli altri Suoi beni I beni Lo lasciano Nella sepoltura I servi Scusate Lo lasciano Nella sepoltura Coperto appena Con una veste Che basta coprirgli Le carni Non va più Chi lo stima Né chi ladula Né si fa più conto Dei suoi comandi Lasciati Saladino Il leggendario Saladino Che acquistò Molti regni Nell'Asia Morendo Lasciò detto Che quando Si portava Il suo Cadavera A seppellirsi Uno Gli andasse davanti Con la sua camicia Appesa ad un'asta Gritando Questo è tutto quello Che si porta Saladino Alla sepoltura Posto che è nella fossa Il cadavere Di quel principe Se ne cadono Le carni Ed ecco Che il suo scheletro Più non si distingue Dagli altri Contemplare sepulcra Dice San Basilio Vide Nun poteris discernere Quis servus Quis dominus Fuerit Quindi guarda i sepulcri E poi vai a vedere Se puoi discernere Chi sia stato servo E chi padrone Quando diventiamo scheletri Siamo tutti uguali Tutti Non ci sono corone Non ci sono titoli Vesti Palazzi Corti Diogene un giorno Si faceva vedere Da Alessandro Magno Tutto affannato Nel cercare qualche cosa Fra certi teschi morti Che cerchi Disse curioso Alessandro Vado cercando Rispose Il teschio Del re Filippo Tuo padre E non lo so distinguere Se tu lo puoi trovare Fammelo vedere Se tu puoi Te sostende In questa terra Gli uomini Disugualmente nascono Ma dopo la morte Si trovano tutti uguali Si trovano tutti uguali In pares Nasce Mur Pares Morimur Dice Seneca Seneca E Orazio Disse che la morte Guaglia gli scettri Alle zappe Sceptra Ligonibus E quanti Insomma Quando viene la morte Finis venit E tutto finisce E tutto si lascia E di tutte le cose Di questo mondo Niente si porta Alla forza Ma vedete Questa meditazione Piccolo Piccola considerazione Saranno sempre Delle medesime varianti Sul tema Qui certamente Il nostro santo Le compone Le costruisce Queste meditazioni Questa si chiama appunto Quella morte Finisce tutto E soprattutto Cessano Quelle Illusorie Distinzioni Di più o meno Agio Più o meno Grandezza Che ci sono In questo mondo Sapete che Alcuni anche Grandi Grandi Della letteratura Italiana Penso Io rimasi molto colpito Quando ero giovane Quando Studiai Pirandello Il pessimismo Di quest'uomo Però un pochino Fondato Su qualche Costatazione Reale Per Pirandello Tutto quanto Finzione Finzione Noi stiamo qui Sul pianeta Terra Su un palco scenico Recitando una parte Che Tutto finto In realtà Quello che noi Qui vediamo E conosciamo Certo Non abbiamo un contatto Vero Con la verità E con il reale Ma molte cose Che Viviamo In questa dimensione Danno niente a che fare Con la Realtà più profonda Delle cose Il culto Dei beni Di questa Terra Di quelli che Secondo Sant'Ommaso D'Aguino Costituiscono La fragilità Terrena Umana I piaceri Nella gola I soldi Il successo Essere considerati Essere stimati Ci sono Fumo Vapore In ebraico Pensate che Evel Che significa Vapore E' la stessa parola Che si dice Per dire Superbia Quelli che si danno Aria Quelli che si pensano Di essere qualcuno Ma qualcuno Di che? Tutti al cimitero Andiamo a finire Uno Ma prima di andare A finire al cimitero Noi siamo Strapieni Come mortali Di Miserie Su miserie Su miserie Su miserie Se mi becco L'influenza Me la tengo Non è che posso dire L'influenza No Tu da me Non ci vieni E posso Tenere lontane Anche con I moderni Ritrovati Veri o fasoli Dio solo lo sa Di certe Apparenti Conquiste Mediche Abbiamo bisogno Di dormire Abbiamo bisogno Di mangiare Se non usiamo Un minimo Di igiene Diventiamo Insomma Dei 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 Esseri Petenti Che camminano Insomma No Quindi Grandezza Di cosa La nostra condizione Di mortali E questa Deve essere Riflettuta Perché Il grande Ingannatore Che è il diavolo Con le sue lucciole Vuole che noi Viviamo in mezzo A un mondo Completamente Artefatto Già oggi Che stiamo Nella società Come dire Multimediale Qui tra Televisioni Film Serie tv C'è veramente Il pericolo Di perdere Il contatto Con la realtà E quindi Di entrare In un mondo Che è finzione Non esiste Uno Si distende Un attimo Ma quella è finzione Non esiste Ma guardate Che non esiste Neanche la vita Di molti esseri umani Concentrata Su ciò Che è Zero Nulla E Il diavolo Vuole che noi Ci sguazziamo In questo Che non ci pensiamo A queste cose E chiunque Fa discorsi Di questo genere Ah Viene questa A rompere scatole Adesso Questo viene A dire Che pizza E mi deve Andare per storto Tutte le cose Fammi Fammi stare in pace Che bellissimi Di pensare In questo modo Per carità Ora Chiudiamo il punto primo Con gli affetti E le preghiere Quindi la reazione Di chi medita Queste cose Come trasformare Queste cose In preghiere E affetti Davanti A Dio Signore mio Già che mi date luce A conoscere Che quanto stima Il mondo Tutto è fumo E pazia Datemi forza Di staccarmene Prima che me ne stacchi Da morte Infelice che sono stato Quante volte Per i miseri piaceri E bene di questa terra Ho offeso E perduto Voi bene infinito O Gesù mio Medico Celeste Girate gli occhi Sulla povera anima mia Guardate le tante piaghe Che io stesso Mi sono fatto Con i miei peccati Ed abbiate pietà di me Per Santissimo Noi Siamo gli autori Del nostro malessere Noi Si vis potes Memundare Questa è una citazione Del Angelo No? Matteo 8,2 Se vuoi Puoi guarirmi Io so che potete Volete sanarmi Ma per sanarmi Volete che io Mi penta Delle ingiure Che vi ho fatte Questo bisogna sempre Dimenticare Non bisogna mai Dimenticarlo Oggi meno che mai Non soltanto Sant'Alfonso Leggete tutta la letteratura Che volete Tutta Tutta Non è che la misericordia Ce la siamo inventati Noi la conosciamo Soltanto noi La conoscevano anche loro Molto bene Però prima di Arrivare al Punto d'arrivo Cominciavano dal punto di partenza Perché la misericordia Non ti arriva senza pentimento C'è ma è come se non ci fosse Sì che me ne pento Con tutto il cuore Sanatemi dunque Ora che potete sanarmi Sana anima a me Anche io peccavi Tibi Citazione del Salmo 40 Sana la mia anima Perché ho peccato Contro di te Io mi sono scordato di voi Ma voi non vi siete scordato di me Come qualcuno Che va bestemmiando Ah Dio c'è altro Che pensare Dio non ci pensa a me Queste sono bestemmi Più gravi delle bestemmi Da scaricatori di porto Ed ora mi fate sentire Che volete anche scordarvi Delle offese che vi ho fatto Se io le detesto Dio se le scorde Si autem Impius Egerit penitentiam Omnium iniquitatum Eius Non ricordavo Citazione di Ezechiele Se l'Empio Farà penitenza Farà penitenza Io Non mi ricorderò Di tutte le sue colpe Di tutte le sue iniquità Ecco Io le detesto E le odio Sopra ogni male Scordatevi dunque Redentore mio Di quanta amarezza Vi ho date Per la meridione Voglio perdere tutto Anche la vita Prima che la grazia vostra Quanti di noi Sarebbero capaci Di fare questa preghiera Chi è capace Di fare in verità Questa preghiera Ringrazia il Signore Ma in verità Per l'avvenire Io Sono pronto A perdere tutto Anche la vita Ma non la grazie Questa è la preghiera Con figlio di Dio Degno di questo nome E a che mi servono Tutti i beni della terra Senza la vostra grazia Cosa dice Gesù nel Pangelo Che giova al mondo Guadagnare il mondo intero Se poi Scusate Che giova all'uomo Guadagnare il mondo intero Se poi si perde Rovina se stesso Che cosa potrà Dare l'uomo In cambio della sua anima Ma chi ci pensa A queste cose De aiutatemi Voi sapete Quanto sono debole L'inferno Non lascerà Di tentarmi E questo Ricordiamocelo tutti Già mi apparecchia Mille assalti Per rendermi Di nuovo Suo schiavo E questo Ricordiamocelo tutti No Gesù mio Non mi abbandonate Io voglio essere Da oggi avanti Schiavo Del vostro amore Bello no? Voi siete l'unico Mio Signore Voi mi avete creato Voi redento Voi siete quelli Che sopra tutti Mi avete amato Voi siete quelli Che solo Meritate di essere amato Voi solo Io voglio amare E questo è il grande Santo Alfonso Punto secondo Filippo II Re di Spagna Stando vicino alla morte Si chiamò il figlio E buttando la veste regale Che lo copriva Gli fece vedere Il petto Rosso dei vermi E poi gli disse Principe Vedi come si muore E come finiscono Tutte le grandezze Di questo mondo Ben disse Ben disse Teodoreto E nella porpora Cioè vestiti regali La putredine Segue E il marciume Cola Sicché ognuno Che muore Ancorché principe Niente conduce seco Alla sepoltura Tutta la gloria Resta sul letto Dove spira Cum interierit Non sumet omnia Ne quede scende In comeo Gloria Eio Salmo 48 18 Quando muore Con sé Non porta nulla Ne scende Con lui La sua gloria Narra Sant'Antonino Che morto che fu Alessandro Magno Ancora Sapete che Alessandro Magno Veramente è stato Uno dei Più grandi Condottieri Di tutti i tempi Cioè Quello che ha fatto In 33 anni È stato veramente Un delirio Un certo filosofo Morto che fu Esclamando disse Ecco quelli Quelli che ora Che ieri Conculcava la terra Ora dalla terra Oppresso Ieri tutta la terra Non gli bastava Ora gli bastano Sette panni Ieri conduceva Per la terra Gli eserciti Ed ora È condotto Da pochi facchini Sotto terra Ma meglio Sentiamo Quel che dice Dio Quid superbis Terra e civis Che ti insuperbisci Terra e cenere Uomo Non vedi che sei Polvere e cenere A che ti insuperbisci A che spendi I tuoi pensieri E gli anni tuoi Per farti grande In questo mondo Verrà la morte E allora finiranno E allora finiranno Tutte le grandezze E tutti i tuoi disegni In illa die Peribunt Cogitazione Seorum In quel giorno Svaniscono Tutti i loro pensieri Dice il salmo 55 Versetto 6 Oh Quanto più felice La morte di San Paolo Eremita Il quale visse Sessant'anni Chiuso in una grotta Vedete Che cosa hanno combinato Alcuni grandi santi Della storia Quindi io quando sento Queste cose Vi prego E mi prego Prima di andare A dare in giro Attestati di santità Cerchiamo di pensarci 500 volte 60 anni Chiuso dentro In una grotta Quanto più felice La morte di questo Che la morte di Nerone Che visse Imperatore di Roma Ma è la verità? Quanto più fortunata La morte di San Felice Laico Cappuccino Che la morte di Enrico VIII Bello questo Vissuto tra le grandezze legali Ma nemico di Dio Ma bisogna riflettere Che i santi Per ottenere una tale morta Hanno lasciato tutto Le patrie Le delizie Le speranze Che il mondo loro offriva Ed hanno abbracciato Una vita povera E disprezzata Ci sono seppelliti Vivi in questa terra Per non essere seppelliti Morti nell'inferno Quanto è spettacolo Ci sono seppelliti Vivi in questa terra Per non essere seppelliti Morti nell'inferno Sono le classiche frasette Che è facile ricordarsi No? Ma i mondani Come mai Vivendo tra i peccati Tra i piacere terreni E tra occasioni pericolose Possono sperare Una felice morte? Come la maggioranza Della gente oggi pensa Dio Minaccia i peccatori Che in morte Lo cercheranno E non lo troveranno Geremia 13 8 Scusate Geremia 29 13 Ripreso poi Da Giovanni 734 Queretis me E te non veniatis Voi mi cercherete Ma non mi troverete Dice che allora sarà tempo Non di misilicordia Ma di vendetta Ecco retribua un tempore Io darò la retribuzione A suo tempo Deuteronomio 32 35 La ragione Ci persuade Lo stesso Mentre allora Un uomo di mondo In morte Si troverà Debole di mente O tenebrato E indurito Di cuore Per gli mali abiti Fatti Traduco Perché questa è un'espressione Un po' Attempata Per le cattive abitudini In cui ho vissuto Per i mali abiti Fatti Le tentazioni Saranno più forti Chi in vita Ha voluto Quasi sempre Cedere E farsi vincere Ma come resisterà In morte Ma ci pensiamo Come possiamo Sperare Che faccia una morte santa Che ha vissuto Nel vizio Nel peccato Nel piaceri Chi ha sempre Assegondato Di tutto e di più Quando al momento Della morte Ci sono I combattimenti Finali Dei diavoli Tradizione Costante Di tutta la spiritualità Cattolica Per Strapparsi L'anima E portarsela All'inferno Chi ci crede A queste cose Oggi Laici E non laici Chi ci crede Che sentiamo dire Durante Le prediche Ai funerali A cose Si sono ridotti Anche i funerari Oggi Alcuni sono Guardate Mi tengo Cerimonie pietose Con tanto Di conclusioni Con Elogi Funeri Intrisi Proprio Di Di nulla In chiesa Per altro Ditti Con Applauso Finale Abbiamo visto Negli anni passati Chi se lo scorda Morire Tragicamente Motociclisti Chi se lo scorda Cerimonie Ufficiata Da un vescovo In chiesa Portano la moto E poi L'accendono Brum 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 Vabbè Stiamo vivendo Io lo chiamo Il tempo Delle amenità Proprio Cioè Non c'è Non c'è Un fondo Non c'è Perché il diavolo Dinanzi alla nostra Stupidità Ci prende gusto Perché ridono Pure loro Secondo me E quindi Diventiamo Ridicoli Ridicoli La Ok Bisognerebbe Per un uomo Che è vissuto in questo modo Riprendo Ci sarebbe bisogno Di una grazia divina Più potente Che gli mutasse il cuore Ma questa grazia Forse Dio è obbligata A darcela A qualcuno Pensa di sì Secondo me Forse questo Sarà meritata Con la vita Sconcertata Che ha fatto Ma per qualcuno I meriti Non ci sono Non contano Tanto Dio Misericordia Quindi Non guarda i meriti Te la dà lo stesso Nuovi Vangeli Scritti Secondo me Eppure si tratta Della sua fortuna O della sua rovina eterna Com'è possibile Che pensando a ciò Chi crede Alle verità Della fede Non lasci tutto Per darsi tutto A Dio Il quale Secondo le nostre opere Ci giudicherà Vedete qua Che cosa dice Chi crede Alle verità Della fede Perché oggi Alle verità Della fede A quello che mi sembra Di vedere Ci si crede Ben poco E purtroppo Qualche volta Anche da parte Di chi ci dovrebbe Credere E insegnarle Agli altri Quindi dovrebbe Credere Più Degli altri Viverle Per poterle Insegnare Frettamente Affetti e preghiere Del secondo punto Ah signore Quante notti Io misero Ho dormito In disgrazia vostra Oddio In quale stato Miserabile Stava allora L'anima mia Era Ella Odiata Da voi Ed Ella Voleva L'odio Vostro Immaginiamo Se Sant'Alfonso Andasse a dire In giro In qualche Assemblea Di questi Che girano Da adesso Sta roba Qui Era Ella Odiata Da voi Sta scritto Qui Sta scritto Non ne sto Dicendo io Queste cose E' scritta Sant'Alfonso Maria De Liguori Vescovo E dottore 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 E ciascuno Deve farle Per sé Ah no Ma io Ho sentito Dire Al funerale X Che quello Stava già volato In cielo Non stava Per tutte Queste cose Qui Sì E chi era Che stava Predicando Al funerale X Ma era Era un prete Ho capito Benissimo Nessuno discute L'ordine sacro Né L'onorabilità Oggettiva Che un prete Deve ricevere In quanto prete Ma quello che dice Non è che per il fatto Di essere prete Tutto quello che dice È oro colato Ma anche no Non è che lo spirito santo Risponde di quello Che dice il prete Da no Il prete Tu lo ascolterai Se Ti Trasmette E questo Tu lo Devi giudicare L'immutabile Eterno Deposito Della fede E delle verità Di fede Divine Cattoliche Se non Non lo ascolti O meglio Se lo ascolti Te ne prendi La responsabilità Perché ascolti Un cieco Guida Un altro cieco E si va a finire In due Dentro la buca In questi casi Parole non mie Ma del nostro Unico Dio e Maestro Il Signore Gesù Cristo Io ero già Condannato all'inferno Solo restava Che si seguisse La sentenza Ma voi Mio Dio Non avete lasciato Di veniremi appresso E di invitarmi Al perdono Ma chi mi assicura Se mi avete perdonato Ancora Avrò da vivere Gesù mio In questo timore Sino a che mi giudicate Ma il dolore Che sento Di avervi offeso Il desiderio Che ho di amarvi Più la vostra passione Amato mio Redentore Mi fanno sperare Di stare in grazia vostra Attenzione a questo passaggio Non mi importa Non mi importa se non faccio Il terzo punto Allora Come faccio A Starò in grazia Chi mi assicura Che mi avete perdonato Allora Uno Il dolore Di avervi offeso La prima cosa Secondo Il desiderio Che ho da amarvi Controlla se queste cose Le hai dentro di te Io devo controllare Se ce le ho dentro di me Terzo La vostra passione Tu sei morto Per me Signore mio L'insieme di queste tre cose Mi rendono sicuro Di essere salvo No Mi fanno Sperare Di stare in grazia vostra Noi non possiamo Essere sicuri Di stare in grazia C'è il canone tridentino Nessuno di noi Può essere sicuro Possiamo Sperare Di stare in grazia di Dio Ragionevolmente Sperare Anche Ma la certezza assoluta Chi te la dà Mi pento D'avervi offeso Sommo bene Vi amo sopra ogni cosa Risolvo di perdere tutto Prima che perdere La vostra grazia E il vostro amore Ritorna anche Nella seconda Disposta Alla meditazione Questo tema Voi volete Che stia lieto Quel cuore Che vi cerca Le tetur Cor Querencium Dominum Si allieti Il cuore Che ricerca il Signore Altro Passo Della saga Scrittura Libro Il primo libro Delle cronache 1610 Signore Datemi Datemi il vostro amore E niente più Mi domando O Maria Voi siete la speranza mia Ottenetemi la santa perseveranza Vedete Come questi sono atti di volontà Importantissimi Sì mio Dio Io lascio tutto A voi mi converto Vi cerco Vi voglio Vi amo sopra ogni cosa Terzo L'ultimo punto Chiamo Davide La felicità della vita presente Un sogno Di chi si sveglia Velut Somnium Surgentium Salmo 72 Versetto 20 Come un sogno Di coloro che si svegliano Commenta un autore Somnium Qui ha Sopitis Sensibus Resmagne Apparent Et non sunt Et cito Avolant Sogno Perché coesensi assopiti Le cose sembrano grandi Ma non lo sono E presto Spariscono I beni di questo mondo Compariscono grandi Ma poi sono niente E poco durano Come poco dura il sogno E poi tutto svanisce Questo pensiero Che con la morte Finisce tutto Fece risolvere San Francesco Borgia Di darsi tutto a Dio Toccò al santo Accompagnare Ingranata Il cadavere Dell'imperatrice Isabella Quando Si aprì la cassa All'orrore Alla puzza Tutti fuggirono Ma San Francesco Scorto dalla luce divina Si fermò A contemplare In quel cadavere La vanità del mondo E rimirandolo E rimirandolo disse Voi dunque Siete la mia Imperatrice Voi quella A cui tanti grandi Si inginocchiavano Per riverenza O donna Isabella Dove è andata La vostra maestà La vostra bellezza Così dunque Trasse concluse Finiscono Le grandezze E le corone Di questa terra Voglio dunque Servire Da oggi In avanti Disse Ad un padrone Che non mi possa più morire E così Da allora Si dedicò Tutto il lavoro Del crucifisso E anche allora E allora Anche fece voto Di farsi religioso Se moriva la moglie Come infatti Poi l'eseguì Entrando nella compagnia Di Gesù Grande Gesuita San Francesco Bortia Sentite che bella considerazione Anche tutti quelli Che seguono Attenzione Noi siamo anche Una banda Amici miei cari Perdonatemi Di idolatri Tutti Chi va presso Al politico X Chi va presso Un tempo Al potente Y Al cantante Z Io una volta Vedi un documentario Non faccio nomi Riferito a un cantatore Italiano In questo documentario Si vedeva un tizio Che si era Tatuato Credo Oltre 40 Tatuaggi Di questo Cantautore O di frasi Delle sue canzoni Sul corpo Cioè Io dico Ma Ci rendiamo conto Di queste robe Un cantautore Un cantautore Del nulla Un interprete Del nichilismo Proprio più Becero Idolatrato 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 Non c'è altro C'è altro da dire Solo Dio E Dio Immortale Non muore Non ci capiterà mai Di andare a dire Che ho fatto Ho servito il Signore È morto Non è morto Anzi Detto fra noi Domine Dio Verbo incarnato È morto per amore nostro Ma è tornato vivo dal cimitero L'unico Per non morire più La morte non ha più Nessun potere su di lui Questo noi serviamo Le ginocchia non si piegano Dinanzi a nessuno Sotto Le ginocchia del corpo Ma le ginocchia dell'anima Non si idola tra nessuno Nessuno Né il politico Né il cantante Né l'attore Né chi vi parte Niente Né i soldi Zero L'idolatria è un peccato grave E come tutte quante le cose Come tutti quanti i peccati È un insulto Alla ragione umana Vedete queste meditazioni Io vorrei Che cosa sono È l'applicare L'intelletto nostro La ragione A dire cose che sarebbero ovvie Che cosa sta Sta dice Sono ovvie queste cose No Solo che noi siamo così stupidi Che non applichiamo l'intelletto Come dovremmo fare Come Dio conta che noi facciamo Alla considerazione Ponderata Di cose abbastanza comprensive Per trarne le dovute conseguenze No? Ma scusate ma certi Grandi Io tanti anni fa Feci circo di catechesi Sulla musica rock Ma che fine hanno fatto Un sacco di Superstar Del rock Morti di overdose Affogati E uno va a idolatrare Un personaggio del genere Ma quale follia Ma l'avete viste I documentari di scene Le scene degli anni 60 Che cosa succedeva Con certi dei Beatles Ma Vedere quelle cose Fa preoccupare Perché esce fuori Quello che c'è Nel cuore di un uomo Dell'uomo Impazzito Folle Fuori di testa Ben dunque Scrisse un uomo disingannato Su un cranio Di un morto Queste parole Cogitanti Vilescunt Omnia Vedete Cogitanti Questo Cogitanti Vilescunt Omnia Gli era scritto sul teschio Perché Dentro del teschio Questo Fino a quando siamo vivi Qui sotto C'è un organo Che si chiama Cervello E la parte superiore Della nostra anima Dove si siedono Le facoltà spirituali Come dice Sant'Omaso d'Aquino Intelletto Volontà e memoria Fino a quando siamo In questo mondo Quindi uniti a questo corpo Funziona attraverso L'organo corporeo Cogitanti Vilescunt Per chi pensa Tutte le cose Diventano vivi Cogitanti Guardate che Non pensare È peccato Eppure grave Secondo me Aggiungiamo Secondo me Questa è una considerazione mia Io ai ragazzi Del catechismo Dico sempre Guardate che Quando andrei Dall'altra parte Prima Ce lo chiederà Nostro Signore Cosa abbiamo fatto Ma prima Ma prima ci dirà Figlio mio Che uso hai fatto Dell'intelletto Che io ti ho dato Perché a tutto Saresti potuto arrivare Perché se abbiamo fatto Pazzie Stupidagini Peccati Vuol dire che abbiamo Sempre agito Contro ragioni Sempre Non solo Contro la fede Chi pensa alla morte Non può amare la terra Sto rileggendo E perché mai Vi sono tanti felici Amanti di questo mondo Perché non pensano Alla morte Non pensare alla morte È una cosa Da stupidi Sant'Alfonso Non è l'unico A fare queste cose Questo è un best seller Ma Specialmente Dal 1500 in poi Queste meditazioni Erano La quintessenza Della spiritualità Filiominum Usqueco Gravi Ricorde Dice al Salmo 4 e 3 Ut quid Delicitis Vanitatem Equeritis Mendacium Figli degli uomini Come mai Avete il cuore Così duro Perché amate cose La vanità E cercate La menzogna Misere figli Di Adamo Ci avverte lo Spirito Santo Ma perché non Di scacciate Dal cuore Tanti affetti Alla terra Che vi fanno Amare la vanità E la bugia Ciò che è succeduto Ai vostri antenati Ha da succedere Anche a voi Essi in questo vostro Palazzo Hanno abitato In quel medesimo letto Hanno dormito Ed ora Non ci sono più Lo stesso Ad essere per voi Dunque fratello mio Datti presto a Dio Prima che venga la morte Qualcunque potes Facere manus tua Instanter operare Qualunque cosa Possa fare La tua mano Falla subito Non rimandiamo La conversione E la confessione Conseguente Quel che puoi fare oggi Non aspettare A farlo domani Perché quest'oggi Passa E non torna più E domani Può venirti La morte La quale non ti permetterà Di fare più niente Finito la morte Se arriva la morte È finito il tempo Per convertirci Game over Finiti i giochi Presto distaccati Da ciò che ti allontana O può allontanarti Da Dio Presto Lasciamo presto Con l'affetto Questi beni di terra Prima che la morte Ce ne spoglia Forza Beati i morti Qui in domino Moriuntur Beati i morti Che muoiono nel signore Apocalisse 14-13 Attenzione Vorrei dire una piccola cosa Tanto abbiamo quasi finito Staccarsi Da ciò che ci allontana Da Dio Obiezione Non ci riesco Non avete idea Di quante Non ci riesco Ah io lo so Che devo smettere di fumare Ma non ci riesco Ma non è vero Ma come niente Ci riesce come Sai come fai Se vuoi smettere di fumare Io parlo pure per esperienze L'ho fatto pure io D'accordo Ah devi soltanto decidere Il punto prima Devi decidere di farlo Io smetto Uno Secondo Chiedi aiuto al cielo Però attenzione Non è che chiedi aiuto al cielo Devo Io prego Dio che mi fa smettere di fumare No no Io prego Dio che mi aiuta Ad essere saldo Nella volontà Ferma Di smettere di fumare E da domani Smetto Punto Dopodiché Devi Entrare nell'ottica Che passerai Un periodo in croce Più o meno lungo Una settimana Due settimane Un mese Non si sa Devi soffrire Soffrire Perché ti sei andato a mettere Stupidamente in questa dipendenza Tossica e nociva Per uscirne Devi soffrire Se non soffri Ci rimani Punto Non è che non ci riesci Lo fai come Noi abbiamo una cosa Che si chiama volontà Insieme all'intelletto Certo che è indebolita A causa del peccato Originale E attuale Ma usa i mezzi Ti fai una bella confessione Ti metti in grazia Ci preghi sopra E lo fai Ma lo fai Si fa qualunque cosa Avete visto che ha fatto San Paolo e Remita? 40 anni dentro Una grotta 60 anni dentro Una grotta Quindi Beati quelli che morendo Si trovano già morti Gli affetti di questo mondo La morte da costoro Non si teme Ma si desidera E si abbraccia Con allegrezza La morte non è per noi Uno spauracchio Per un amico Di nostro Signore Gesù Cristo Per un vero amico Di nostro Signore Gesù Cristo Ma la sicura desidera Non perché siamo Come dire Necrofili O masochisti No Perché per un amico del Signore La morte è la fine Del tempo della prova Si forse sarà La poppa dei purgatori Però Si raggiunge Il premio Delle nostre fatiche Già che allora Invece di separare I dei beni che ama Non unisce col sommo bene Che solamente Dei essi amato E che di rendere Eternamente beati I Santi Non vedono l'ora Di morire Fermo restando Che sono disposti A stare Sul pianeta terra A servire Il Signore A soffrire per lui A sacrificarsi per lui Anche 400 anni Però Di per sé Evviva Non c'è nessun timore Malsano Della morte Affetti e preghiere Del terzo punto Caro mio Redentore Vi ringrazio Che mi avete aspettato Che sarebbe di me Se mi aveste fatto morire Quando io stavo Lontano da voi Sia sempre benedetta La vostra misericordia La pazienza Che per tanti anni Avete avuta con me Vi ringrazio Della luce E della grazia Con la quale ora Mi assistete Allora Io non vi amavo E poco curavo Di essere amato E poco curavo di essere amato da voi Ma ora Vi amo con tutto il cuore E non ho pena maggiore Che di avere così disgustato Un Dio così buono Mi tormenta questo dolore Ma dolce è il tormento Mentre questo dolore Mi dà confidenza Che voi mi inviate Già perdonato Dolce mio salvatore O fossi morto mille volte Prima E non vi avessi mai offeso Temo che per l'avvenire Non vi avessi da ritornare A offendervi Fatemi Prima morire Sentite Con la morte più dura Che ci sia Prima che io abbia di nuovo A perdere la vostra canse Vedete qui Rincara un po' la dose No? La morte più terribile Qui possiamo fare Un po' di esempi Un po' Un po' tedri Un po' sinistri Piuttosto che perdere la grazia Vediamo se siamo capaci A fare questa preghiera Sono stato un tempo Schiavo dell'inferno Chi è stato un gran peccatore Se lo ricordi questo qui Ma ora sono vostro servo O Dio dell'anima mia Voi avete detto Che amate chi vi ama Ego dirigentes Mediligo Proverbi 8 17 Io amo coloro che mi amano Io vi amo Dunque sono vostro E voi siete mio Vi posso perdere Per l'avvenire Ma questa è la grazia Che vi cerco Fatemi Prima morire Che io Prima Fatemi prima morire Che io abbia Che io vi abbia A perdere di nuovo Speriamo che questo Sia il desiderio Del cuore Mio E di tutti Coloro che ascoltano Piuttosto che Perdere il Signore O perderlo di nuovo Meglio morire Voi mi avete Fatte tante grazie Da me non cercate Non posso temere Che non vogliate Saudirmi di questa grazia Che ora vi domando Questa preghiera Il Signore la sodisce Al 100% Perché questa preghiera Non è altro Che la prima Petizione del Padre Nostro Sia santificato Il tuo nome Non permettere Della vita Non solo finisce tutto Ma passa pure presto Laudentur Iesus et Maria Grazie a tutti